Ciao amiche belle, bentornate sul mio canale youtube nel video di oggi e seguiremo insieme la bavetta come avete potuto già notare dalla foto iniziale io ho uno schema che seguirò che però ovviamente si sa non tutti sanno leggere gli schemi e quindi lo faremo insieme vedrò se è possibile per chi volesse far avere lo schema anche in pdf però non vi garantisco nulla perché devo vedere se riesco a caricarlo ok allora partiamo subito con la lavorazione occorrerà io lo faccio in un filato cable numero 5 ok si cable numero 5 e con questo filato utilizzerò un uncinetto numero 2 anche se qui è consigliato un uncinetto 1,5 io preferisco farlo sempre con una misura in più quindi utilizzerò il numero 2 partiamo con il realizzare 52 catenelle allora il cappetto iniziale di consueto e poi eseguiamo le nostre 52 catenelle terminate le 52 catenelle torniamo indietro con maglia bassa facciamo una catenella per salire saltiamo la prima e la seconda catenella di base entriamo nella terza e seguiamo la nostra seconda maglia bassa e così poi fino alla fine 3 4 5 fino a 52 ora come dice lo schema dobbiamo salire con una maglia alta e effettuare gruppi di due di maglie alte in un punto e saltare un punto di base quindi eseguiamo le nostre 3 catenelle per salire con il lavoro 1 2 e 3 poi nella primissima maglia facciamo una maglia alta e nella successiva faremo maglia alta catenella maglia alta poi filo sull'uncinetto saltiamo una maglia di base andiamo nella successiva dove faremo nuovamente una maglia alta una catenella e una maglia alta ancora saltiamo un punto entriamo nel successivo e facciamo maglia alta catenella maglia alta ancora saltiamo un punto di base nella successiva maglia alta catenella maglia alta fino alla fine proseguite così sono arrivata alla fine dove ho fatto dove ho eseguito una maglia alta ora dobbiamo salire con il lavoro quindi facciamo una catenella voltiamo il lavoro e nello stesso punto andremo a fare una maglia alta poi faremo nell'archetto andremo a fare due maglie alte ultimo divido lo schema allora due maglie alte e una io ne vedo una di catenella di separazione con due altre maglie alte quindi maglia alta maglia alta maglia alta catenella di separazione e poi senza fare nessuna catenella di separazione passiamo nell'altro archetto e faremo due maglie alte una catenella e due maglie alte ancora 2 maglie alte una catenella e due maglie alte proseguite fino alla fine arrivate fino alla fine del nostro giro dobbiamo ripetere la stessa lavorazione per altri due giri quindi di nuovo catenella voltiamo il lavoro maglia alta su maglia alta e ripetiamo la stessa lavorazione eseguita nel giro sottostante nel giro successivo quindi ripetiamo le due maglie alte una catenella due maglie alte in ogni archetto senza senza separazione tra un gruppo senza separazione tra un gruppo e l'altro eseguirò eseguirò questo modulo fino alla fine eseguirò 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 gruppi che saranno i quattro gruppi che dovrò saltare nella lavorazione insegnerò la la maglia prima di questo gruppo in automatico qui devo saltarne 4 iniziare a lavorare nel quinto gruppo quindi cosa farò farò così sempre catenella per voltare il lavoro e mi sposterò con dei punti bassissimi in questo modo qua in questo modo noi camminiamo sul lavoro in ogni punto faremo un punto bassissimo e avanziamo già ho superato il primo mi sto avvicinando sto terminando il secondo gruppo ora vado nel terzo e nel quarto quindi punto bassissimo sulla prima maglia alta punto bassissimo sulla seconda un punto basso nell'archetto o un punto basso nella prima maglia alta poi filo sull'uncinetto e facciamo una maglia alta poi nel gruppo seguiteremo a fare due maglie alte una catenella 2 maglie alte fino al punto che avete segnato in quel punto che avete segnato dovrete andare a realizzare la maglia alta come l'abbiamo realizzata qui quindi seguiamolo insieme maglia alta maglia alta catenella maglia alta e maglia alta passiamo nel gruppo successivo dove ripeteremo e 2 maglie alte la catenella e 2 maglie alte ancora passiamo nel gruppo successivo e ripetiamo il lavoro e proseguite fino a qui al punto che avete marcato sono arrivata al termine dove ho fatto la maglia alta ora spostiamo questo marker e nel giro successivo quindi vado a segnare vado a segnare di due gruppi quindi devo saltare due gruppi metto il marker dove dovrò andare a fare la maglia alta quindi allo stesso modo di prima mi sposto faccio sempre la catenella per portare il lavoro con maglie bassissime allora una maglia bassa sulla maglia alta sottostante ancora maglia bassa poi una maglia bassa nell'archetto ancora e abbiamo superato il primo gruppetto ora siamo al secondo e dopo aver fatto il punto basso nella diciamo terza maglia alta del gruppetto filo sull'uncinetto e parto con la maglia alta poi ancora filo sull'uncinetto e vado nel gruppo a lavorare le solite 2 maglie alte catenella 2 maglie alte fino al marker dove però nel punto segnato dal marker effettuerò la maglia alta ok ho fatto la maglia alta ora da questo giro in poi dobbiamo andare a saltare solo un gruppo alla volta quindi vado a segnare la maglia che devo che dovrò saltare in pratica questa qui qualora non riusciate a individuarla subito perché man mano vedrete che non riuscirete a distinguerla voi contatevi i giri ad ora siamo arrivati a cinque giri quindi se io guardo qua 1 2 3 4 1 2 3 4 e 5 vedete qui ci sono cinque gruppi quindi so che devo saltare questo gruppetto quindi sempre allo stesso modo mi sposto con dei punti bassissimi in primis facciamo la catenella per portare il lavoro e ci spostiamo con queste maglie bassissime nell'ultima maglia alta faremo la maglia alta e poi ripetendo sempre i gruppi da 2 maglia alta o una catenella 2 maglie alte ancora il gruppo successivo 2 maglie alte una catenella 2 maglie alte ancora ora questa bavetta può essere adatta per 001 2 mesi ma qualora voi vorreste fare un lavoro per un bambino mio nato più grande ovviamente le catenelle iniziali dovranno essere di più perché quello è il giro collo poi la lavorazione resta sempre uguale insomma siamo quasi direttura ad arrivo ancora le maglie alte catenella 2 maglie alte ancora 2 maglie alte catenella 2 maglie alte catenella 2 maglie alte ora siamo arrivati dove è presente il nostro marker e farò la maglia alta farò la catenella per portare il lavoro sposto il marker sulla maglia che dovrò andare a fare diciamo che non dovrò più dovrò andare a fare la maglia alta e non il gruppetto quindi abbiamo detto questo è il sesto giro 1 2 3 4 e 5 1 2 3 4 5 6 il sesto giro di gruppetti e intendo perché vedete mentre qua è chiara la separazione quando non facciamo la maglia alta tipo qua e qua è chiaro man mano invece diventa meno chiaro questo distacco ed ecco perché vi consiglio di contare ora allo stesso modo che abbiamo fatto prima continuiamo saltiamo questi punti con dei punti bassissimi e poi nell'ultima maglia alta del gruppetto andiamo a fare la maglia alta e poi ancora le due maglie alte catenella 2 maglie alte fate questo fino alla fine altro giro altra corsa ancora dobbiamo saltare un gruppetto quindi se prima erano 6 2 4 6 ora sono 7 gruppetti 2 4 6 7 me lo vado a marcare qui lo devo saltare e 1 2 faremo 1 2 3 4 5 in pratica questo è un altro giro dobbiamo fare in questo modo e poi il lavoro risulta quasi al termine perché poi dobbiamo fare il il giro di chiusura ora se io me ne trovo 5 magari voi ve ne potreste trovare cioè se ora salto la prima e salto l'ultima 1 2 3 4 e 5 me ne trovo 5 poi vi potreste trovare 6 quindi al giro successivo se io me ne troverò 3 poi me ne troverete 4 perché io ho fatto delle catenelle in meno ok poi facciamo quindi il lavoro non cambia e facciamo il giro di chiusura quindi procediamo per questo giro allo stesso modo di quello fatto fino adesso quindi la catenella per voltare il lavoro già l'ho fatta maglia bassissima nelle due maglie alte maglia bassissima nella nell'archetto maglia bassissima nella prima maglia alta e maglia alta su maglia alta poi di nuovo i gruppetti 1 il primo gruppetto passiamo a fare il secondo il l'archetto successivo catenella 2 maglia alta ancora poi ancora ecco che siamo quasi alla fine 2 maglia alta catenella 2 maglie alte infine una maglia alta dove abbiamo il marker ora noi dobbiamo ancora andare a fare la riduzione come già vi ho detto anticipato prima che sarà l'ultima riduzione se prima erano 7 adesso sono 8 gli archetti quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 già l'ho individuato metto il marker 1 2 3 4 5 6 7 a posto quindi questa è l'ultima riduzione farò allora la catenella innanzitutto poi maglie bassissime poi nell'ultima maglia alta faccio la maglia alta e poi proseguo con i gruppetti ancora quindi se io me ne trovo tre voi ve ne dovreste trovare quattro ecco qua e mai alta ok tagliare il nostro filo togliamo il marker che non ci serve più per ora il lavoro si presenta così dobbiamo andare a fare il giro di rifinitura allora partiamo direttamente dall'interno facciamo il nostro cappietto iniziale e mi metto qui più o meno che poi dopo vi serve questo punto che devo fare i laccetti per chiudere vi trovate quindi quindi entro più o meno qua e dobbiamo avanzare con punti bassi quindi ripercorriamo le maglie sottostanti con dei punti bassi quindi se avete fatto 56 52 catenelle dovreste fare 52 punti bassi man mano che lavorate nascondete anche i fili proseguiamo fino a più o meno fino alla fine fino a qua sono giunta all'ultimo punto del girocollo ora per quanto mi riguarda io effettuerò delle catenelle e poi torno indietro per l'esattezza una ottantina di catenelle per fare l'accetto appunto per annodare dietro al collicino del bambino la bavetta ma in alternativa voi potete passare anche del nastro in questo spazio qui e questo nastrino vi farà poi da chiusura del bavettino nel mio caso ripeto io effettuerò 80 catenelle tornerò indietro con 80 maglie basse ho terminato le mie maglie basse sull'accetto quindi mi riaggancio qui al lavoro e salgo sul laterale sempre con delle maglie basse ok ora terminato questo bordino farò 3 catenelle 1 2 3 e mi riaggancio nel primo gruppetto dove lavorerò per tutti i gruppi che mi si presenteranno lavorerò 2 4 6 8 maglie alte e tra un gruppo di maglie alte e l'altra nessuna separazione passiamo nell'altro gruppo e ancora 8 maglie alte fate questo fino alla fine del vostro lavoro arrivate al vostro ultimo gruppetto di 8 maglie alte farete di nuovo 3 catenelle e vi agganciate sul laterale ed effettuate le vostre maglie basse questo modo qua arriviamo fino alla fine del giro cioè del laterale eccoci qua e ora da qui effettueremo nuovamente le 80 catenelle per tornare indietro e ci riagganciamo a questo punto dove abbiamo effettuato la nostra prima maglia bassa in questo modo ci ritroveremo con i laccetti per la chiusura del collo ora vi faccio vedere la rifinitura che sto andando ad applicare non so se vi ricordate in uno dei miei video di caffà avevo preso queste coccardine questi fiocchetti con queste rosette e la vedo molto adatta per questo lavoro ci andrò a passare in questo bordino il nastrino più o meno del colore di una delle rose attacchiamo il nastrino tutto intorno qua e poi al centro applichiamo questi questo fiocco con l'ausilio di un ago andiamo a passare in tutti gli spazi poi ovviamente sistemate lì dove il filo va a girarsi ed ecco a voi il lavoro come risulta terminato è un lavoro semplice adatto anche a chiare le prime armi perché non ci sono maglie particolari come i pioppiolini e queste cose varie li ho volutamente esaltati diciamo così perché sarebbero stati più carini per abbellire però già così ha il suo fascino e la sua bellezza spero che questo video vi sia piaciuto che se non siete ancora iscritti al mio canale non esitate a farlo e attivate la campanella per restare sempre aggiornate su nuove registrazioni vi lascio un grande saluto, un forte abbraccio e che vi dica fa iniziate a lavorare ciao ciao